Sono qui per lanciare un appello al buonsenso, non facciamo fuochi per il 2022. Perché dico non accendiamo i fuochi? Perché basterebbe poco perché questi aghi di pino prendessero fuoco con una favilla dal mare, anche se con le migliori intenzioni per divertirci, per stare insieme. Rispettiamo la natura, cerchiamo di mettere in atto comportamenti responsabili. Oltretutto quest'anno è un'ordinanza che prevede sanzioni da 25 a 300 euro solo se si fa un buco e si accattasta la legna e da 5.000 a 5.000 euro se si fa un fuoco. Ma noi non dobbiamo arrivare alle sanzioni, dobbiamo essere consapevoli, proteggere l'ambiente, dei posti che abbiamo che sono bellissimi. Una fiamma ci mette pochi istanti per bruciare un albero che ci ha messo 50 anni, 60 anni per diventare grande. Ed ecco il risultato di un incendio, successo solo alcuni giorni fa qui nei pressi di Porticino. Guardate quello che è successo perché qualcuno ha buttato un mosticone, anziché metterlo nel posacenere, l'ha buttato per terra e questo è quello che succede.